Iniziano finalmente i lavori sulla strada statale 185 di Sella Mandrazi, che collega Termevigliatore a Novara di Sicilia, e poi si ridiscende verso la zona ionica. Dopo gli eventi atmosferici avversi del 3 dicembre 2022, che hanno causato svariate frane, si parte dal chilometro 14 e 800, dove sono stati avviati i primi lavori urgenti di consolidamento e ripristino del corpo stradale. La strada statale 185, ha spiegato il deputato di sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, è una via di vitale importanza per i collegamenti fra il versante ionico-etneo e il versante tirrenico, e questo intervento è cruciale per rendere nuovamente percorribile questa importante arteria, falcidiata dai cedimenti sia verso Novara di Sicilia quanto verso Francavilla di Sicilia. Più volte nelle competenti sedie avevamo sollecitato l'avvio dei lavori. Nei prossimi giorni e settimane si estenderanno i cantieri sulle altre frane per risolvere definitivamente le problematiche lungo tutta la strada. Il nostro impegno ha concluso Lombardo e batterci affinché venga garantita la sicurezza e la funzionalità di questa arteria fondamentale per la mobilità nella nostra regione. Restiamo vigili e operativi per monitorare da vicino l'evolversi dei lavori e assicurare adesso che procedano speditamente per la risoluzione definitiva e riaprire nuovamente il traffico. Per quel che riguarda i provvedimenti, l'ANAS aveva istituito nel territorio di Novara di Sicilia un senso unico alternato con impianto semaforico che dunque limitava il passaggio solo alle auto e per questo motivo verificati i ritardi non erano mancate le proteste del sindaco Gino Bertolami e dei commercianti del centro montano e poi il divieto di transito verso il territorio di Francavilla di Sicilia.